bene amici buongiorno a tutti bentrovati sul canale quest'oggi andiamo a vedere come registrare i freni a disco meccanici nel mio caso della mia bicicletta elettrica ma la quasi totalità dei dei casi che sia un monopattimo una bicicletta elettrica una bicicletta pedalata assistita una mountain bike i freni a disco meccanici per intendersi quelli comandati con il cavo hanno pressoché lo stesso funzionamento di conseguenza anche la modalità per andarli a tarare a registrare piuttosto che a sostituire le pastiglie qualora si consumassero procedimenti sono gli stessi ma andiamo a vedere direttamente il lato pratico come vedete il funzionamento di un freno a disco meccanico è molto semplice tramite la leva situata sul manubrio in questo caso siamo sulla ruota posteriore tirando la leva tramite questo cavo inguainato viene tirato questo braccio il quale non fa altro che spingere il pistoncino alla fine del quale è alloggiata la pastiglia contro il disco e contro l'altra pastiglia infatti i freni a disco meccanici ad esempio questo qua della mia bicicletta ha una pastiglia fissa ovvero quella diciamo interna verso la ruota e una pastiglia mobile che spinge a ogni tirata di freno passatemi il termine spinge la pastiglia contro il disco contro l'altra pastiglia permettendo così ai ferrodi delle due pastiglie di fare attrito sul disco e di conseguenza di frenare la la vostra bicicletta ora vi faccio vedere come registrarli per avere così una frenata ottimale centrando sia il disco con diciamo il gruppo frenante sia per avere una corsa ottimale della leva del freno avendo ben tensionato il questo cavetto per fare questo occorrerà solamente una brugola del 5 per questa vite qua che sarà quella per andare a lavorare sulla tensione del cavo e anche rallentare la pinza stessa affinché possiate centrarla sul sul disco sempre con la brugola del 5 andando ad agire su questa vite qua potrete andare a avvitandola o svitandola a giocare sul sulla posizione della della pastiglia quella fissa avvicinandola o allontrandola leggermente affinché possiate registrare al meglio il vostro impianto frenante quindi per prima cosa bisognerà tendere questo cavo di nel mio caso come vedete la corsa della leva del freno è appena lunga quindi dovrò andare a correggere un po agendo su questa vite avvitandola andrò ad avvicinare leggermente la pastiglia quella che è sempre in posizione statica tra virgolette verso il disco controlliamo che la ruota giri libera perfetto non tocca lente perfetto così facendo vedete siamo andati a regolare la corsa della della leva freno qualora invece aveste problemi di disallineamento tra pinze freno pastiglie e disco non dovete far altro che allentare sempre con una brugola da 5 questa vite questa vite non appena avete liberato il movimento della della pinza del freno mentre quindi tenete tirata la leva del freno andate a stringere queste due viti in modo che almeno le fermerete in posizione perfettamente parallela al al vostro disco evitando così quel fastidioso rumore dovuto al fatto che in un qualche punto del disco non essendo allineate le pastiglie al disco stesso vanno a strusciare potete andare a correggere la tensione del vostro cavo anche agendo sulla rotellina che possa sia qua che qua intanto che ci sono do anche una controllata alla parte anteriore dell'impianto frenante innanzitutto controlliamo se la corsa sia corretta e si la corsa è corretta il cavo e ben tensionato vediamo se sentiamo quel fastidioso rumore di strusciamento tra pastiglie disco no assolutamente niente ruota gira libera quindi direi che siamo a posto niente ragazzi spero di essere stato il più chiaro possibile come al solito non esitate a contattarmi o a farmi sapere qui sotto nei commenti se c'è qualcosa che non vi è chiaro nel quale avete bisogno un approfondimento mi raccomando perché avere un buon impianto frenante sia una bicicletta elettrica una bicicletta pedalata muscolare una mountain bike un monopattino avere ripeto una frenata efficiente è molto importante anche perché spesso per quanto riguarda i mezzi elettrici raggiungono in breve tempo velocità anche abbastanza sostenute con un bello spunto di conseguenza raccomando sempre di viaggiare con due dita sempre pronte sulla leva del freno in caso di emergenza quindi avendo avere un impianto frenante efficiente può fare la differenza per la vostra incolumità e per l'incolumità altrui comunque detto questo come al solito mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete un bel like se volete sostenermi condividete e un saluto dal vostro max review a presto ciao